Sono George, operatore sanitario di comunità. Insegno alle donne come comportarsi durante la gravidanza e come aiutare i loro figli dopo la nascita. Visito le donne incinte due volte prima del parto, la prima volta intorno al quarto mese, la seconda negli ultimi due mesi. Le istruisco su come comportarsi, ad esempio come fare controlli in ospedale, come andarci per il parto accompagnate dai mariti e non separatamente come fanno di solito. È importante che ci vadano insieme. E poi le istruisco sui comportamenti igienici e alimentari durante e dopo la gravidanza. Spiego come tenere al caldo il neonato nei primi giorni di vita. Insegno a tagliare il cordone ombelicale, a disinfettarlo. All'inizio sono molto scettiche, ma poi pian piano si affidano totalmente ai miei consigli. Durante le mie visite consegno alle madri un kit per il parto, vestiti per i neonati, sapone, garzi o vatta. Dovranno consegnare tutto ai medici che le faranno partorire. Loro sono molto interessate a quello che estraggo dalla mia borsa. Mi chiedono sempre altre cose di cui hanno bisogno. Penso che dovremmo avere più operatori sanitari. Io devo assistere sei villaggi. Ogni mese devo visitare centinaia di madri e di bambini. Dovremo poter coprire ogni zona del paese. Il nostro lavoro è importante. Lo riconoscono anche i medici. Ci ringraziano molto per come assistiamo e prepariamo le future madri. Buongesso, non importa il mondo. Per me lo svolgo. Per me lo svolgo. Grazie a tutti.